solo di quelli che hanno capito in quell'angolo e che rispondono all'unanimità ok? iniziamo da questa base da quelli più devocchi devi capire il numero ok? in base è molto più grande Antonio devi capire il numero no no no, devi tacito dire perché poi è molto difficile ma è difficilissimo allora, cominciamo da questa base ok? ogni figura se questa è la base cambiando il movimento in questo che numero rimane? sei e da questo che diventa? tre ma se lo faccio di qua rimane tre? sì no no è quattro è quattro non hai visto Antonio e da questo come lo faremo diventare? quattro quattro ma se io questo lo spentolo qua sotto che rimane? uno sei 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 sì sì Antonio non paga di che si stiamo presi allora ci sta questo? no non paga di che si stiamo presi no no io sto facendo un po' è una cosa è una cosa è una cosa è una cosa io bevo è un'altra è un filo tutto l'altro è finito ritornando partendo da qua sei muovendolo di qua e aggiungendoci questo che ti viene? sei cinque sei cinque no Antonio ma tu senti questa cinque muovendolo di alzare a Diego e gli fa le basi adesso Diego Diego io ho messo la base fai le basi non hai girato non hai capito niente io ho messo la base e tu prosegui dai vai dai campo minato no muovendolo di Diego noi facciamo la base e il resto ce la saliamo ok guarda Diego questa è la base oh io ho la testa alimentare oh senti questa è la base oh questa è la base eh vale perché noi qua non vediamo totale la base è questa vai Diego non mi dimenti così no 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 questo è un bellissimo otto per esempio bellissimo effetto proprio alla grande vai dallo tagliato è più complesso e questo rimane te non è che rimane perché ho fatto un magico tu devi conseglierà tutto da una cosa dai fai un'altra poi faccio le gambe faccio pure qualcosa questo è uno quello è uno se esauri faccio l'ultimo faccio l'ultimo faccio l'ultimo alza la gambe il favore fa l'altra è diventato questo è tua è chiaro non è bravo non è bravo non è bravo ma adesso mi sono a base non prosegui Mariano era un due bella 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 bella